Ciao a tutti sono Silvia Cecchetti cantante vocal coach. Quante volte vi è capitato di ascoltare qualcuno o che stia parlando oppure che stia cantando o un rapper e magari ascoltare qualcosa che veramente ci interessa e ci piace e non riuscire a seguirlo perché è noiosissimo. A volte capita con i cantanti, a volte capita con un professore, a volte può capitare con un rapper, con qualcuno che fa spettacolo. Beh vi assicuro che a volte purtroppo capita anche nei vostri confronti. Di là dei contenuti che do per scontato che siano interessanti abbiamo bisogno ogni tanto di catturare, di tenere viva la curiosità di chi ci sta ascoltando. Ci sono tre parametri fondamentali molto facili da usare sia per chi canta e poi ne parleremo ma anche per chi parla e anche per chi fa rap. Ritmo, volume, altezza. Parliamo del ritmo e come scansionare le sillabe cioè io posso parlare più lentamente per magari enfatizzare quello che sto dicendo oppure posso posso oppure posso parlare più velocemente e dare un po' più ritmo a quello che sto dicendo cioè tenere viva la curiosità ma ricordatevi che la cosa ideale è cambiare il ritmo in modo da essere a volte più veloci e a volte un pochino più lente. E questa è la prima cosa che ora vediamo nel parlato e poi lo vediamo anche nel cantato. Il volume è un po' più complesso e faccio un video soltanto sul volume perché è una parte molto interessante e indispensabile per chi canta e per chi fa rap e comunque per chi usa tanto la voce. Però tanto così per essere un po' veloci immaginate di avere una manopola qui da muovere e di andare dall'1 al 5 dove l'1 ovviamente è un volume basso e 5 è un volume alto ricordatevi che non vuol dire fare questa cosa che questa è l'altezza della nota un'altra roba. Il volume è qualcosa che serve sempre per mantenere la curiosità sempre per creare quei cambi necessari in chi ci ascolta per rendere sempre la nostra conversazione un po' più pepata diciamo che è un po' di spiazzamento dell'avversario chi ci ascolta deve essere sempre un po' spiazzato e mai darci per scontati non deve mai essere sicuro di quello che stiamo facendo. Poi c'è l'altezza l'altezza della nota quindi possiamo usare semplicemente una nota alta oppure una nota più bassa più profonda come vogliamo noi ovviamente per quanto riguarda il canto sulla nota beh non è che si possono cambiare c'è una melodia stabilita e quella è la nota che dobbiamo fare. Tutto cambia nel momento in cui però attenzione stiamo facendo un'improvvisazione jazz oppure stiamo facendo rap perché nel rap dove non c'è una melodia stabilita o meglio in quelle parti dove non c'è una melodia ben stabilita il cambio di nota può aiutare insieme al cambio di ritmo e di volume può aiutare a mantenere sempre viva l'attenzione. Per quanto riguarda il parlato ovviamente come dicevo prima può essere una nota profonda ma ogni tanto possiamo anche alzare un po' la nota. Mi raccomando tutto questo senza mai urlare o gridare perché altrimenti tutti questi piccoli trucchi diventano un pessimo modo di usare la voce diventano fastidiosi ma soprattutto fanno male alle corde vocali perché si usano dei muscoli che non vanno mica tanto bene. Allora parlavamo di ritmo e poi lo vedremo anche nel canto parlavamo di altezza di nota e abbiamo parlato di volume. Ora l'ideale è usare questi tre strumenti insieme in modo da mischiarli continuamente e anche per quanto riguarda il ritmo ricordatevi che è fondamentale cambiarlo spesso. Passiamo al cantato per quanto riguarda il ritmo al di là di quello che è già stato stabilito quindi che è stato scritto e che è su un pentagramma che è la melodia e non possiamo cambiarla perché così è la canzone e da lì non ci possiamo muovere. In realtà c'è una cosa che si chiama fraseggio cioè il modo di dire quella frase, il modo di scandire le sillabe e per fare un esempio io posso dire sai la gente strana ma posso anche dire sai la gente strana oppure sai la gente strana. Questi sono diversi modi di dire la stessa frase. Una regola fondamentale per chi canta è non usare sempre lo stesso fraseggio nelle stesse celle cioè quando si scrive si dice si scrive per celle ritmiche melodiche. Faccio un esempio diverso ok questa qua. Prima cella. Seconda cella. Terza cella che è uguale alla prima. Pa 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 pa. Quarta cella che è uguale alla seconda. Quindi quando si scrive una canzone ad esempio le celle vengono ripetute spesso. Anche questo è un argomento che poi tratterò in un altro video specifico e si parlerà proprio di scrittura. Però quando cantiamo queste celle che continuamente si ripetono regola fondamentale è non ripetere sempre lo stesso fraseggio. Altrimenti la melodia è scritta in modo che si ripeta. Le sillabe sono scritte in modo che si ripetano se anche il nostro modo di fraseggiare è sempre uguale a chi ci ascolta non passa più ragazzi. Quindi sai la gente strana prima si odia e poi si ama cambia ed è improvvisamente. Ovviamente qua l'ho enfatizzato e reso bruttissimo però è un modo semplicemente per dire ta pa 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 Ok? Quindi provate adesso voi con la vostra canzone a cantare qualcosa dove è evidente la ripetizione delle celle, ripeto tutte le canzoni hanno celle che si ripetono, ma provate a fraseggiare in modo diverso e forzatamente all'inizio cambiate il modo di fare le sillabe e poi vedrete che piano piano vi verrà sempre più spontaneo. Fatemi sapere se ci sono dubbi, se vi viene tutto quanto, commentate, vi aspetto, ciao! Grazie!